Musica Ben ritrovati gentili telespettatori, questo è il primo TG Flash delle ore 18, andiamo con le ultime notizie. Ieri, secondo giorno di consultazioni al Quirinale che aveva come protagonisti il Partito Democratico, Italia Viva, resta il gelo dei due partiti. Sul futuro Premier una precisazione però arriva via Facebook dal segretario dei DEM Nicola Zingaretti, il quale afferma non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze e cercare un governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia, non è questo che serve alla nostra nazione. Prendiamoci cura dell'Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo socialmente giusto e attento agli ultimi. Un governo attento alla salute e al futuro. Dei cittadini italiani questa crisi non l'abbiamo voluta noi, ne avremmo fatto volentieri a meno. Ripeto, l'Italia però può e deve guarire. Ha ucciso la moglie e il figlio di appena 5 anni per poi tentare un suicidio. Lanciandosi dal balcone di casa è accaduto intorno alle 3 di questa notte in un'abitazione di Carmagnola a Torino, dove i carabinieri hanno arrestato un 39enne italiano. Il duplice omicidio al culmine di una lite familiare per motivi ancora da accertare. L'uomo ha scritto un biglietto, vi porto via con me. Nel manoscritto, secondo quanto si apprende, l'uomo si dice deluso per il rapporto di coppie. Dichiara tutto il suo amore per le due vittime. Prima di buttarsi dal balcone di casa, l'uomo ha tentato di tagliarsi le vene dei polsi e poi si è buttato dal balcone, procurandosi la frattura di una vertebra oltre a sterno e caviglia. Avrebbe anche ingerito un liquido per il quale saper essere sottoposto ad una visita specialistica. La prognosi al momento è di 60 giorni. Sui social si è scatenato l'odio. La pagina Facebook dell'uomo si sta riempendo di insulti di chi non riesce a farsi una ragione di tale violenza. Hai ucciso due angeli assassino. Come hai potuto? Spero che in carcere troverai il tuo. Sono alcuni dei messaggi postati sotto l'immagine del bimbo. Riposa in pace, cucciolo. Avevi una vita davanti a te. Invece chi doveva proteggerti ti ha ucciso. Non ci sono parole. Che ingiustizia. Si legge ancora. Nel 2020 sono stati 35 invece i capoluoghi di provincia fuori legge per polveri sottili PM10 con Torino. In testa maglia nera per 98 giorni di sforamento. Dei limiti quotidiani 40 microgrammi per metro cubo per 35 giorni all'anno. Secondo la legislazione europea seguita da Venezia con 88 e Padova con 84. Al centro-sud il primato va ad Avellino con 78 e Frosinone con 77. Questo emerge dal report annuale. Ma l'area di città 2021 di lega ambiente secondo cui preoccupa anche il confronto con i parametri OMS più stringenti di quelli europei. 60 le città fuori legge con il primato quindi sempre a Torino seguita da Milano, Padova, Rovigo, Avellino e Frosinone. Nonostante i mesi di lockdown e la diffusione dello smart working riporta il report di lega ambiente. Nel 2020 a Roma e Milano è stato superato quello che sarà il nuovo valore medio annuale suggerito dall'OMS per il biossido di azoto. Lega ambiente ricorda inoltre che le auto sono le fonti principali di inquinamento in città e che le emissioni fuori legge delle vetture diesel continuano a causare un aumento della mortalità. Come emerso anche da un recente studio che si inquadra nella più ampia iniziativa trasfrontaliera sull'inquinamento del traffico urbano. La quale stima per la prima volta in assoluto la quota di inquinamento a Milano imputabile alle emissioni delle auto diesel che superano nell'uso reale i limiti fissati nelle prove di laboratorio alla commercializzazione. In particolare nel capoluogo Lombardo sono proprio i veicoli diesel Euro 4 ed Euro 5 a provocare la maggior parte dell'inquinamento. Ricordando che ogni anno in Italia, stando ai dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, sono oltre 50.000 le morti premature dovute all'esposizione eccessiva ad inquinanti atmosferici. Cospese di diverse decine di miliardi all'anno, stimate tra il 47 e i 142 miliardi di euro. Proseguono le secondi dosi del vaccino tra i sanitari della campagna in attesa di ripristinare quello che è il programma delle prime vaccinazioni che dovrebbe partire dal prossimo 6 febbraio. Alla mostra d'oltremare di Napoli oggi ci sono stati 1.266 persone vaccinate convocati per fasce orarie da 200 persone alla volta in ordine alfabetico. Si prosegue così anche nei prossimi giorni quando il numero aumenterà. Venerdì sono previste quindi per oggi altre 2.019 persone, sabato invece domani 2.382. Intanto proseguono anche i richiami negli altri ospedali. Domani è prevista una riunione anche in regione Campania con i direttori generali delle ASL che faranno partire una pianificazione della fase successiva della vaccinazione. Dal 1 febbraio inoltre Pfizer ha assicurato che la fornitura di vaccini tornerà a livelli normali senza riduzione coinvolgendo così quanto prima anche le persone ultraottantenni. Intanto l'eurodeputato del Partito Democratico Andrea Cozzolino ha chiesto a gran voce con un messaggio sulla propria pagina ufficiale la possibilità di valutare azioni legali contro Pfizer e AstraZeneca. Valutiamo le possibilità di promuovere azioni per censurare un inadempimento contrattuale, un ritardo che rischio di mettere a repentaglio il diritto alla vita e alla salute di tanti cittadini europei. E ciò che ho chiesto in una interrogazione alla Commissione europea richiesta che fa seguito non solo ai ritardi nella consegna annunciati ma anche alla riduzione delle dosi rispetto alle previsioni per il primo trimestre del 2021. Un rischio per il quale la Commissione può e deve prendere assolutamente dei provvedimenti. La Regione Campania ha firmato un atto di richiamo contenente disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica sul territorio regionale per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si raccomanda ai dirigenti scolastici di adottare misure di massima prudenza nelle organizzazioni delle attività scolastiche, assicurando in particolare 1. che la presenza in aula e le singole classi sia disposta in misura non superiore al 50%, assicurando il collegamento online da parte della restante platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona. 2. che venga consentito ai genitori degli alunni nel rispetto della misura sopra prevista di optare per la fruizione della didattica a distanza. 3. che in ogni caso venga disposta su richiesta la fruizione dell'attività della DAD agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprio ovvero di persone conviventi o comunque sulla base di esigenze adeguatamente motivate. 4. che non venga differenziato l'orario di ingresso degli alunni, assicurando piuttosto il rispetto dei limiti percentuali di presenza in aula degli alunni medesimi, attraverso adeguate misure di rotazione. Si richiamano gli dirigenti scolastici all'obbligo di rispettare dei requisiti generali di sicurezza, nonché alla puntuale attuazione dei rispettivi piani di sicurezza anti-Covid-19 e alle responsabilità connesse all'eventuale inosservanza degli stessi. Attimi di paura questa mattina, venerdì 29 gennaio, a Via Marchesiello a Caserta, un uomo, un militare di 38 anni, ha tentato il suicidio, minacciando di buttarsi dal balcone della propria abitazione del terzo piano. L'individuo, visibilmente scosso e dopo una lite con la moglie, ha subito un forte contracolpo psicologico. Sul luogo sono intervenuti prima i vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione nell'appartamento dell'uomo sopracitato, il quale è arrivato alla colluttazione con gli stessi. Solo in un secondo momento sono intervenute altre forze dell'ordine, quali Carabinieri e Polizia, per cercare di sedare gli animi. Tuttora ancora non è nitida l'immagine dell'accaduto, sono attualmente in atto ulteriori accertamenti, anche se la situazione sembra essersi calmata, come si nota da alcune foto, in nostra anche esclusiva. La via è momentaneamente interdetta alla circolazione a causa dell'accaduto. Chiudiamo adesso invece con lo sport, con il calcio. Il Napoli accede alle semifinali di Coppa Italia, battendo 4-2 lo Spezia d'Italiano. Gli azzurri dominano nel primo tempo e chiudono in vantaggio 4-0 con le reti di Coulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Nella ripresa dei ritmi calano, gli Aquilotti riaprono il match, grazie a Ghiasi al settantesimo e a Camporo al settantatreesimo. Un 1-2 che mette molta paura agli azzurri, che però riescono comunque a portare a casa la qualificazione. In semifinale ci sarà la terribile Atalanta di Giampiero Gasperini, andata allo stadio Diego Armando Maradona, il 3 ritorno a Bergamo, una settimana dopo. Così Gattuso ha commentato ai microfoni di Sky, il dopo partita. Mi dà fastidio che sistematicamente mi fanno la domanda sulla mia dimissione e non capisco perché agli altri non la facciano. Dice, io e il mio staff buttiamo il sangue tutti i giorni. Se i risultati non vanno bene alla proprietà, io sono un dipendente e vengo giudicato da questi, ma di Padre Pio. Ce n'era uno solo, non capisco perché ogni volta devo sentire che Gattuso si deve dimettere. Io resto qua, sono quattro anni in Serie A, che alleno e non dite mai che la quarta semifinale di Coppa Italia, che raggiungo, perché non lo dite? Ma sono abituato a queste cose, anche da calciatore era così. L'obiettivo stagionale per Gattuso è chiaro, arrivare nelle prime quattro, perché la rosa è valida, prosegue, vorrei vedere se all'Inter mancassero Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Danoio Simen ha fatto solo sei partite, Dries Mertens manca da quella proprio contro l'Inter. In questo momento nel reparto d'attacco ci mancano dei giocatori che ci possono dare qualcosa di importante senza nulla, togliere a quelli che ci sono. Se vinciamo la partita con la Juve siamo comunque terzi. Se mi girano comunque vado ad allenare. In Kuwait lavoro e poi verrò giudicato. Dai risultati che ottengo sembra che non abbiamo fatto niente, eppure guardate il Real Sociedad da Zed, dove sono in classifica, siamo in semifinale di Coppa Italia e sembra che non abbiamo fatto assolutamente nulla. So che qui è difficile, lo sapevo dall'inizio, ma non voglio rassicurazioni. Io sono un uomo cazzuto e non mi deprimo facilmente. A me nessuno mi ha regalato mai nulla nella vita. Possiamo fare di più, ma non vado dietro le chiacchiere. Se mi girano, ripeto, sono capace di allenare anche in Kuwait. Infine la Chiosa. In discussione un allenatore ci deve sempre stare, ma mi sembra eccessivo quello che sta accadendo qua. Mi aspettavo che la prima domanda al termine della partita contro lo Spezia fosse riguardo alla quarta semifinale di Coppa Italia raggiunta in quattro anni. Che alleno? Invece mi chiedete di Laurentiis e delle mie dimissioni. Per questa elezione di prima TG Flash è tutto. Appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci. Grazie. 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 Grazie.